Buonasera a tutti, sono Giampaolo Monti e bentrovati qua su Biticino Academy. Il tema di questa sera penso che sia già stato abbondantemente dibattuto in questi ultimi mesi. Parlare di CPR e di cavi elettrici direi che arrivo ben oltre colleghi più blasonati e anche commenti ben più autorevoli. Quindi il contributo che Biticino vorrebbe portare questa sera, non essendo noi tra l'altro produttori di cavi, è un contributo legato alla comprensione della normativa, comprensione di che cosa vuole portare avanti il regolamento sui prodotti da costruzione in termini di sicurezza, perché a mio avviso la sicurezza degli impianti è un tema che coinvolge tutta la filiera dai produttori agli installatori e progettisti. Quindi il nostro contributo è quello di cercare di capire, soprattutto al di là delle siglature, gli ambiti di applicazione di questo regolamento e come applicare la normativa, in questo caso la 648, la variante V4 che è attiva dal primo giugno di quest'anno. e cercare un po' di capire come districarsi tra quelle che sono le leggi, quelle che sono le normative, con l'unico obiettivo che è quello di incrementare la sicurezza dei nostri edifici. Ok, cosa andiamo a vedere? Com'è divisa questa presentazione? Che durerà più o meno una quarantina di minuti, poi lasciamo spazio alle domande. Prima di tutto andremo a vedere che cos'è il CPR, in modo molto veloce, però serve giusto per creare quelli che sono i confini della nostra argomentazione. Quindi l'appendice legislativa e normativa. Poi ci immergiamo un po' nei cavi CPR, quindi quali sono le sigle, che cosa è cambiato, e alla fine arriviamo al clou, direi, che sono gli ambiti installativi, cioè che cosa è effettivamente cambiato e come installare i cavi affinché seguiamo la regola dell'arte. Allora, il primo punto, il punto di partenza, è il regolamento UE 305 del 2011, quindi stiamo parlando già di un po' di anni, che è stato ovviamente approvato anche in Italia e stabilisce le condizioni armonizzate a livello europeo, attenzione, per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Quindi non si parla di cavi, si parla di prodotti di costruzione, tanto è vero che CPR è appunto l'acronimo di Construction Product Regulation. Riguarda ovviamente quindi tutti i prodotti che entrano in modo stabile e permanente in opere di ingegneria civile. Infatti, se vediamo il paragrafo sotto, si definisce prodotto da costruzione un qualsiasi prodotto o insieme di prodotti, detto anche kit, fabbricato ed immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di ingegneria civile o in parti di esse, la cui prestazione incide sulle prestazioni dell'opera stessa rispetto ai suoi requisiti di base. Attenzione al grassetto, incorporato in modo permanente in opere di ingegneria civile. Torneremo spesso, per definire gli ambiti di applicazione, sul concetto di incorporato permanentemente in opere di ingegneria civile. Per smarcare subito la cosa, io personalmente faccio fatica a concepire un cavo come incorporato in modo permanente. Lo capisco invece per un tondino di acciaio che è all'interno di un pilastro o di una trave. Effettivamente, dopo che è stato scelto e posato, viene incorporato permanentemente all'interno dell'edificio. E se penso alla reazione che questo corpo può avere per quanto incorporato all'interno di una struttura in calcestruzzo, sappiamo che reagisce ovviamente alla temperatura e dà e fa cambiare le prestazioni di tenuta dell'intera struttura edile. Il cavo per me, personalmente, ritengo che è un oggetto che viene posato all'interno di un edificio, ma non lo è permanentemente, dal mio punto di vista. Posso sempre sfilarlo e posso sempre cambiarlo. Certo è anche vero che l'abitudine, e sicuramente quello che ho potuto verificare negli anni, è che una volta che il cavo è posato ed è conforme alle regole di progetto, effettivamente resta posato per tutta la vita dell'edificio, finché l'edificio non cambia o destinazione d'uso o ha una necessità di essere ampliato o ristrutturato. In quel caso si riporrà attenzione al cavo se è adatto a risolvere le problematiche cambiate, oppure se fosse adatto viene mantenuto, oppure verrà sostituito con il cavo idoneo. In ogni caso, non voglio entrare in questo tipo di polemica, il cavo è entrato a tutto diritto all'interno dei sistemi di costruzione, prodotti da costruzione, e quindi lo accetto come tale. Quindi un cavo, a meno che non sia una prolunga posata su un pavimento, quindi non siamo più nella permanente, ma è un impianto mobile, e il cavo lo prendo come prodotto da costruzione. Altra cosa, in opere di ingegneria civile, quindi stiamo parlando dei cavi che sono posati all'interno di edifici. Un cavo interrato all'esterno non è all'interno di un'opera di ingegneria civile, quindi può tranquillamente non rispondere ai dettami del CPR. Per quanto ci interessa, e parlavamo di sicurezza dei materiali, il CPR si focalizza in particolare sulla reazione al fuoco dei materiali da costruzione. Quindi i cavi sappiamo che più volte, qualche volta a ragione, altre volte a torto, sono stati imputati di aver propagato gli incendi, e di essere stati loro molte volte la causa di innesco, o, sappiamo bene, un cortocircuito non opportunamente interrotto da un dispositivo elettrico, ha portato un surriscaldamento del cavo che ha preso fuoco, e se il cavo non era adatto a bloccare la fiamma, si è innescato e è propagato l'incendio. Quindi sicuramente i cavi giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incendi, che sono tra i rischi maggiori di distruzione di edifici. Quindi è giusto essere focalizzati e andare a pensare alle modalità di costruire nuovi cavi, o di pose dei medesimi, affinché si raggiunga una sicurezza maggiore di quella che abbiamo ad oggi. Come vedete il CPR non ha validità sui cavi non destinati ad essere incorporati all'interno degli edifici. Cosa dice il regolamento 305? Quindi, preciso, il regolamento 305 è una legge, è una legge che è stata recepita dallo Stato italiano, pertanto va osservata. La legge 305 impone ai costruttori di cavi di mettere solo cavi CPR, quindi rispondenti al decreto, sui materiali da costruzioni, a partire dal 1 luglio di quest'anno. Altresì precisato che il regolamento CPR non impone nessun obbligo a progettisti e installatori a partire dal 1 luglio del 2017. Quindi, la legge non impone a progettisti e installatori di osservare alcunché, se non che abbiamo in Italia un'altra legge, che è il decreto ministeriale 37 del 2008, che invece impone di perseguire la regola dell'arte nella realizzazione degli impianti, da cui, se non vogliamo dotarci noi di una nostra regola dell'arte e poi andare a dimostrare che sia almeno equivalente a quella delle norme CEI, seguiamo le norme CEI che automaticamente ci danno la conformità alla regola dell'arte. Quindi vuol dire che dovremmo seguire una norma CEI e una norma CEI è stata pubblicata al 1 giugno del 2017. Quindi abbiamo una norma che in questo momento è cogente con la vecchia norma 64.8 del 2012 e ne ha, anche qui, non voglio entrare in termini legali, che ne ha limitato la validità fino al 31 dicembre di quest'anno. In questo momento, quindi dal 1 giugno fino al 31 dicembre del 2017, abbiamo in vigore sia la variante V4 della CEI 64.8, che va a recepire le parti più importanti, e le vedremo nel seguito del CPR, che la vecchia CEI 64.8 del 2012. Cosa succede per i cavi non CPR, che sono ancora disponibili sul mercato, dopo il 1 luglio del 2017? Vale, diciamo, in sintesi quanto segue. Se il magazzino è del produttore, del fabbricante o dell'importatore, cioè colui che per la prima volta, diciamo, ha messo, immesso il cavo sul mercato, i cavi possono essere immessi se la destinazione d'uso del fabbricante non prevede l'incorporazione negli edifici. Ora, è difficile, abbiamo tantissimi esempi in questo senso. Mi viene in mente un vecchio cavo, un vecchio cavo, sigla, un FG7, è un cavo che può essere incorporato all'interno di un edificio, ma può anche essere utilizzato, vista la caratteristica del cavo stesso, per una posa mobile all'esterno. Ovviamente il costruttore del cavo si limita a dare le caratteristiche di questo cavo e lascia ovviamente al progettista e all'installatore capire qual è l'ambito d'uso di quel cavo. Quindi, la vedo difficile che un produttore dica di un cavo qual è l'ambito di uso. Magazzino del grossista. Cosa succede? Possono essere commercializzati in quanto l'impiego dei cavi è responsabilità dell'installatore. Quindi il grossista si ritrova ad avere dei cavi in magazzino e può tranquillamente venderli. Soprattutto perché stiamo parlando se li aveva a magazzino sono cavi che sono stati immessi sul mercato prima del 1 luglio del 2017. Qui stiamo parlando di che cosa succede dopo il 1 luglio del 2017. Se il cavo invece è già a magazzino dell'installatore quindi anche in questo caso il cavo è stato prodotto prima del 1 luglio possono essere installati ma l'installatore, come abbiamo detto all'inizio deve seguire la regola dell'arte e quindi si dovrà rifare a quanto dice la 648 lo vediamo poi in dettaglio o sul paragrafo 7 quindi per quanto riguarda i luoghi marci o al paragrafo 5 o al paragrafo 5 per quanto riguarda i luoghi ordinari. Cosa succede nel periodo di cogenza cioè adesso delle due norme 648 quindi fra il 1 luglio del 2017 e il 31 12 del 2017 abbiamo la sovrapposizione e qui la situazione si può fare un po' di anacaprina ho cercato di sintetizzare i casi che effettivamente si possono proporre e che risposte si può dare. Allora, incominciamo dal punto 1 se il progetto ha una data certa anteriore al 1 luglio del 2017 può essere progettato e realizzato utilizzando cavi non CPR poi si può entrare e sindacare come si fa ad essere certi che il progetto abbia una data anteriore al 1 luglio una data certa sicuramente a mio avviso un progetto consegnato a livello esecutivo e su cui è già stato approvato anche il budget è un progetto che è stato consegnato ed approvato prima del 1 luglio del 2017 che sicuramente ha una data certa anteriore. Se il progetto è stato fatto tra il 1 luglio e il 31 12 del 2017 qui siamo in presenza della vera e propria sovrapposizione delle due norme quindi può essere progettato e realizzato utilizzando cavi non CPR ma può essere realizzato con cavi non CPR a patto di essere terminato e quindi di avere una dichiarazione di conformità al pianto terminato entro il 31 12 2017. In caso contrario si verrebbe ad avere una dicotomia tra un progetto che è stato fatto in periodo di cogenza delle due norme e posso dire di aver utilizzato la vecchia era effettivamente valida ma l'installatore dovendo redigere una dichiarazione di conformità dopo il 31 dicembre si ritrova ad avere solo una norma quindi la nuova la variante V4 che invece impone certe diversità rispetto alla precedente e di conseguenza non potrebbe seguire il progetto che è stato fatto secondo un'altra norma. Dal punto di vista di che cosa succederà dal primo di gennaio del 2018 l'impianto ovviamente siamo in presenza di una sola norma deve essere progettato e realizzato esclusivamente con cavi CPR. Come già detto ricordiamo che in ogni caso la norma CEI non costituisce legge ma costituisce e fornisce la presunzione della regola dell'arte richiamata da una legge dal decreto ministeriale 37 quindi di fatto sappiamo benissimo che seguiamo le norme CEI per avere la presunzione della regola dell'arte e non andiamo quasi mai a trovare una via alternativa di propria regola dell'arte perché ci imporrebbe a un certo punto di dimostrare di aver utilizzato almeno un criterio di un livello di sicurezza e di prestazione almeno pari a quanto previsto dalla norma CEI in vigore entriamo adesso nel mondo dei cavi e soprattutto per la parte che ci riguarda quindi i cavi abbiamo detto sono diventati prodotti da costruzione e in particolar modo ci riguarda e ci interessa conoscere la loro reazione al fuoco e la loro resistenza al fuoco il CPR considera la reazione al fuoco cioè la modalità con cui la parte combustibile del cavo partecipa al fuoco vedremo vedremo che il CPR ha anche definito non entreremo in questo dettaglio delle modalità di prova che sono leggermente differenti da quanto previsto per esempio dalle nostre norme CEI e UNEL e di conseguenza non ci sarà una perfetta sovrapposizione tra le prestazioni in termini di reazione al fuoco dei cavi attuali rispetto ai cavi CPR ci sono delle piccole differenze sono in gran parte i dati sovrapponibili ma qualche piccola differenza esiste sulla base quindi della reazione al fuoco che cosa definisce il CPR ha definito sette classi le vedete qua le classi europee vanno dalla ACA fino alla FCA e qui già noi come italiani ci troviamo ad aver recepito una direttiva europea ma non abbiamo recepito tutte le classi quindi le classi recepite dal CPR italiano sono solamente quattro e le vedete sotto riportate quindi andiamo dalla B1 CA la B2 CA la CCA e la ECA le altre mancano e io pongo solo una domanda al momento non ho una risposta è una direttiva europea con il tentativo di armonizzare a livello europeo la commercializzazione dei cavi e ci ritroviamo che il collega d'oltre Alpe ha a disposizione sette classi e noi ne abbiamo a disposizione quattro quindi mi viene già da dire che i cavi commercializzati sul mercato italiano di un produttore internazionale o un produttore europeo non sono tutti i cavi che sono disponibili dallo stesso produttore in un altro mercato guardiamo il parametro secondario quindi abbiamo visto i parametri principali quindi da CA FCA o nel nostro caso diciamo quello che ci interesserà per la maggiore è il CCA e le CA ma poi vi sono dei parametri secondari che vanno a caratterizzare i loro comportamenti in termini di fumo S in termini di produzione di gocce D e in termini di acidità non entro nel dettaglio la tabella soprattutto nella colonna livello va letta dall'alto verso il basso quindi il livello S1 per quanto riguarda lo smoke e quindi il fumo è un livello a livello di prestazione superiore a livello S3 che come vedete non ha nessun requisito in termini di prestazioni al sviluppo di fumi così vale anche per la D quindi per la produzione di gocce incandescenti D0 nessuna particella infiammata entro 1200 secondi e il D2 scusate nessun requisito quindi potrà gocciolare lo stesso per l'acidità come già detto il CPR le prove istituite per classificare questi cavi soprattutto le parti secondarie quindi l'S, il D e l'A secondo i parametri di livello che vedete sono leggermente diverse da quelle delle nostre CEI 2035 e 2022 quindi non si avrà una perfetta rispondenza tra i vecchi in termini proprio prestazionali tra i vecchi cavi rispondenti alle norme citate e i nuovi cavi sicuramente il CPR è più dettagliato e ha condotto e ha individuato delle prove per caratterizzare meglio il comportamento al fuoco dei cavi marcatura del cavo qui vedete un modello di cavo e come sono riportate le marcature c'è una parte di dati obbligatori quindi nome del fabbricante sigla del cavo qui vedete già un cavo siglato con una nuova siglatura secondo il CPR ma soprattutto trovate la caratteristica quindi il livello primario di reazione al fuoco in questo cavo vedete che è un CCA e i parametri secondari quindi sono un S1B un D1 e un A1 sostanzialmente classe di reazione al fuoco CCA parametro di sviluppo fumi è un S1B parametro di gocciolamento corrispondente a D1 e parametro di acidità corrispondente ad A1 se ricordo bene questo è un cavo che può essere paragonato al nostro cavo FG9 quindi un cavo a bassa emissione adatto ovviamente impieghi terziari quindi come già detto i cavi CPR sono provati secondo modalità diverse più severe rispetto a quelle che abbiamo fatto finora quindi abbiamo una garanzia supplementare proprio in termini di risposta al fuoco sono cambiate solo in parte le mescole degli isolamenti e delle guaine sostanzialmente parliamo ancora di PVC parliamo ancora di EPR e di gomme lastomeriche quindi questo cambio per quanto esistente che va poi a essere preponderante proprio sullo sviluppo di fumi e sviluppo di gocce non altera però le prestazioni e le caratteristiche meccaniche ed elettriche dei cavi quindi un cavo CPR dal punto di vista della portata definita la sezione scusate e la tipologia quindi un doppio isolamento un semplice isolamento porta esattamente come il cavo non CPR che avevamo a disposizione quindi un 10 mm quadri singolo isolamento porta come un 10 mm quadri singolo isolamento secondo il CPR questo vuol dire anche che i valori che eravamo abituati a considerare soprattutto quando si faceva il calcolo della sezione dimensionamento della sezione in cortocircuito dei cavi quindi K quadro S quadro uguale all'I quadrato T il K quadro il K coefficiente del cavo vale ancora il valore che c'era per il PVC e per le PR quindi sostanzialmente chi ha a disposizione software di calcolo e quant'altro al di là della cambiata siglatura non vengono alterate le portate dei cavi e il loro regime di funzionamento in sovraccaico in cortocircuito in funzione dell'isolamento che hanno e ovviamente della posa che ne segue in questa tabella sono state riportate una correlazione fra le vecchie mescole e le nuove quindi vedete che il cavo sappiamo se il cavo è un cavo semplice quindi un unipolare senza guaina parliamo di isolamento abbiamo le vecchie siglature quindi l'R2 il G7 il G9 il G10 la nuova mescola trattandosi sempre di un unipolare semplice isolamento abbiamo che l'R2 diventa l'S17 mescola a base di PVC poi il G7 diventa G16 quindi un FG7 diventa un FG16 tanto per intenderci mescola a base di EPR a basso sviluppo di fumi e di acidità il G9 diventa un G17 e siamo la gomma l'astomerica e via dicendo la tabella direi che si spiega da sé poi abbiamo le guaine quindi l'esterno del cavo quando parliamo di cavi multipolari o di cavi in doppio isolamento quindi che hanno l'isolamento primario verso il conduttore e l'isolamento secondario costituito dalla guaina il discorso è lo stesso la guaina R diventa un R16 guaina in PVC la guaina M1 diventa un M16 guaina termoplastica l'M2 è una guaina elastomerica diventa un M18 quindi sostanzialmente capito il gioco è facile anche ricordarsi le sigle dei nuovi cavi rispetto ai vecchi ora entriamo negli ambiti applicativi direi che questa è la parte che come dicevamo ci interessa più di tutti cioè capire se dobbiamo alterare diciamo cambiare il nostro modo di progettare gli impianti di capire le regole che utilizzavamo per andare a scegliere un tipo di cavo piuttosto che un altro in funzione del luogo di installazione o se sostanzialmente non è cambiato quasi nulla quindi i cavi in oggetto del CPR l'abbiamo già detto sono quelli installati permanentemente in opere di ingegneria civile quindi non importa se queste possono sono dei luoghi marci quindi a maggior rischio in caso di incendio oppure sono dei luoghi ordinari quindi il CPR non dà nessun dettame su questo dobbiamo essere noi progettisti a individuare come abbiamo sempre fatto l'ambiente e di conseguenza andare a scegliere i cavi altro punto i cavi che fanno parte di macchine anche se queste sono fissate saldamente all'edificio non sono cavi CPR in quanto sono inseriti in macchine e non in edificio chiedo scusa ma i malanni di stagione quindi un grosso motore per esempio con i suoi circuiti di comando annessi al motore stesso non è per quanto inserito e lo sarà stabilmente all'interno dell'edificio non è da considerare un'opera di ingegneria di conseguenza i cavi di quel motore e della circuiteria non sono cavi che devono rispondere al CPR alla fine vedremo anche la situazione dei quadri elettrici i cavi utilizzati nei cantieri anche se sono interni edifici non sono cavi CPR in quanto non sono installati permanentemente quindi gioco da permanenza o dell'edificio ma sono temporaneamente in edificio non importa quanto dura il cantiere e non importa se il cantiere come sappiamo è uno degli ambienti critici dove è molto facile avere più che incendi ma è possibile difetti di isolamento comunque in questo caso i cavi non sono possono non essere cavi CPR quando dico non sono è che possono non essere cavi CPR se ci troviamo all'interno di un'installazione di cui stiamo di un edificio in cui stiamo facendo un'espansione e quindi ci sia già la presenza di un impianto fatto qualche anno fa quindi con cavi che non rispondevano CPR semplicemente perché CPR non c'era cosa ci troviamo che l'ampliamento deve essere progettato e realizzato con cavi CPR dipende chiaramente dalla data se parliamo dal primo gennaio del 2018 assolutamente sì ma i restanti cavi non hanno bisogno di essere adeguati restano quelli che sono quindi sugli impianti esistenti non c'è nulla da fare le linee guida come dicevamo le troviamo dal nostro punto di vista quindi da progettisti e installatori all'interno della norma che guida gli impianti di bassa tensione quindi la norma 64.8 e come dicevamo abbiamo una nuova versione in vigore dal primo di giugno quindi la variante 4 andiamo a vedere che cosa modifica la variante 4 rispetto alla vecchia sostanzialmente come dicevamo dove si parla di cavi si parla di cavi essenzialmente è l'installazione dei medesimi o nei luoghi ordinari o nei luoghi marci quindi la norma è andata a toccare soprattutto il paragrafo 527 scelta e messa in opera delle condutture aventi lo scopo di ridurre al minimo il rischio dell'incendio per gli ambienti ordinari e il 751 che riguarda gli ambienti marci cominciamo dagli ambienti ordinari allora io ho riportato quanto scritto nella 648 2012 riguardante quegli articoli quindi 527 11 12 13 14 15 vedete che i primi due sono scritti in nero e gli altri tre in rosso sostanzialmente non li leggo quelli in rosso sono quelli che hanno subito leggere modifiche in questa slide è riportato esattamente quanto riportato sulla 648 2012 qui è riportato e andiamo a vedere le differenze quindi partiamo dal 527 13 i cavi rispondenti alle norme CEI 2035 e con un comportamento al fuoco secondo le CEI 2380 quindi non propaganti la fiamma possono essere installati senza precauzioni particolari questo è quanto diceva la norma nella CEI 648 2012 tuttora in vigore fino a 31 dicembre di quest'anno è in vigore l'attuale V4 quindi che si sovrappone cosa dice i cavi con un comportamento al fuoco pari almeno ad ECA quindi classe di reazione al fuoco secondo CPR ECA possono essere installati senza precauzioni particolari fa un'aggiunta e una precisazione se installati in fascio ed in ambienti con rischi specifici valutabili di volta in volta si devono utilizzare cavi con reazione al fuoco pari a CCAS3D1 cioè sostanzialmente non abbiamo la classe D ci fa saltare verso la classe C che è sicuramente migliorativa c'è da intendersi innanzitutto su che cosa intendiamo per fascio quindi se i due cavi affiancati costituiscono un fascio o costituiscono uno strato quindi non un fascio ma sostanzialmente dal punto di vista dell'applicazione nulla è cambiato se andiamo a vedere rispetto alla norma precedente se andiamo a vedere un cavo ECA quali sono le caratteristiche di un cavo ECA ci troviamo che è il cavo che attualmente noi avremmo utilizzato per questo tipo di installazione se probabilmente se era un sottotraccia avremmo utilizzato un N07VK se posato in un canale avremmo utilizzato un FG7 e sarebbe già stato rispondente sempre con quanto dicevo prima pressoché sovrapponibile ma alle caratteristiche di un CCA all'interno di un canale quindi sostanzialmente si tratta di cambiare le sigle ma non è cambiata la tipologia sostanzialmente fisica del cavo rispetto a quanto eravamo abituati ad utilizzare andiamo avanti il 52714 dice che i cavi che non siano in grado di superare almeno la prova di non propagazione della fiamma della norma CEI 2035 devono se utilizzati essere di ridotta lunghezza e solo per il collegamento degli apparecchi alla conduttura fissa e non devono passare da un ambiente all'altro cosa dice la nuova norma i cavi destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione e aventi classi direzione al fuoco inferiore alla classe ECA secondo la CEI EN 5575 quindi parliamo della classe inferiore F devono essere di ridotta lunghezza e solo per il collegamento degli apparecchi alla conduttura fissa e non devono passare da un ambiente chiuso all'altro sostanzialmente non è cambiato nulla andiamo all'ultimo quindi 527.1.5 le condutture diverse dai cavi che non rispettano le prescrizioni della CEI 2035 e 2380 devono se utilizzate essere completamente racchiuse in appropriati elementi costruttivi di materiale non combustibile e qui rimane invariato cioè i cavi sotto traccia dove la parte di muratura costituisce uno schermo efficiente all'incendio possono essere utilizzati senza particolare precauzione sostanzialmente non è variato nulla spostiamoci adesso ai luoghi marci che sono ovviamente per definizione a maggior rischio in caso di incendio e che cosa ci troviamo qua nel 751.04.28a e 751.04.3a abbiamo che i cavi vengono suddivisi in cavi non propaganti della fiamma e cavi non propaganti di incendio questo è quanto ci troviamo sulla vecchia norma cioè quella del 2012 la nuova norma cosa dice sostituisce la parola fiamma incendio con una classe di razione al fuoco cioè sostanzialmente cavi non propaganti della fiamma sono diventati sulla norma cavi con classe di razione al fuoco almeno CA cavi non propaganti di incendio sono cavi con classe di razione al fuoco CCA S3D1O3 quindi vi sono poi delle prescrizioni aggiuntive esattamente come facevamo adesso quindi se siamo in un luogo marcio di tipo A attualmente dovevamo anche utilizzare dei cavi che avessero una bassa emissione di halogeni cioè gli LS quindi low smoke zero halogen adesso abbiamo l'equivalente classe che risponde a questa definizione ed è una classe di razione al fuoco minima CCA S1D1A1 quindi sostanzialmente rispetto a quella che dicevamo prima di cavi non propaganti di incendio CCA S3D1O3 cosa ci ritroviamo se volessimo confrontare questi due cavi diciamo un vecchio FG7 con un G9 sostanzialmente abbiamo che la stessa che la classe di reazione principale è sempre CCA abbiamo un diverso comportamento tra il G9 e il G7 che è l'S3 che nel G7 quindi è una condizione di fumosità di un certo tipo che è diventata un S1B chiaramente deve produrre meno fumo low smoke quindi l'S1 ha una prestazione in termini di produzione di fumo superiore all'S3 vediamo che il gocciolamento da questo punto di vista è identico di uno per uno di uno per l'altro e poi abbiamo che il vecchio G7 è una 3 e il G9 è una 1 cioè l'A1 è l'acidità quindi la produzione di fumi acidi e infatti l'LS 0 H 0 Halogen va in questa indicazione quindi sostanzialmente la nostra modalità di scelta del cavo non è cambiata in funzione dell'ambiente sono cambiate le sigle come vedete non cambia nulla in termini di regole per la scelta e l'installazione dei cavi cambia soltanto il modo di chiamare i cavi stessi vediamo questa tabella riepilogativa che ci aiuta a includere un po' tutte le scelte quindi cominciamo con la situazione che avevamo prima del primo luglio avevamo dei cavi non propaganti la fiamma quindi secondo la CEI 20-35 lì avete due esempi l'H07VK l'H07RNF avevamo cavi non propaganti di incendio quindi secondo la CEI 20-22 per esempio la cordina l'N07VK e l'FG7OR e avevamo poi i cavi a bassa emissione quindi passiamo da FG7 o M1 cosa succede nella situazione dopo il primo luglio del 2017 che nel primo caso quindi cavi non propaganti la fiamma secondo la CEI 20-35 devono avere adesso nella designazione del cavo la classe direzione al fuoco ECA tipi di cavi vedete che la sigla è ancora un H07VK un H07RNF e altri cavi di tipo armonizzato dove possono essere installati nei luoghi ordinari passiamo ai cavi non propaganti d'incendio secondo la CEI 20-22 adesso lo stesso cavo ha una siglatura di tipo CCAS3 D1A3 i cavi hanno mutato leggermente la loro siglatura quindi come dicevamo dall'FG7OR parliamo di FG16OR con prestazioni elettriche tutte analoghe dove possono essere installati nei luoghi maggiori rischi in caso di incendio di tipo B e di tipo C quando arriviamo nei luoghi marci di tipo A utilizziamo i cavi fino al primo luglio abbiamo utilizzato i cavi a bassa emissione quindi gli LS0H secondo la CEI 20-38 e qui abbiamo una ulteriore suddivisione quindi qui il CPR va a dettagliare ulteriormente le prestazioni quindi se siamo in luoghi marci di tipo A abbiamo il CCAS1D1A1 l'FG16OM16 anche quindi sigla simile alla vecchia quando siamo in luoghi marci dove il rischio di incendio è particolarmente alto e dove sono richieste anche determinate prestazioni ho indicato per esempio le gallerie ecco che andiamo addirittura su una classe ancora superiore quindi la B2CA come reazione al fuoco vedete poi che nel caso 1 quindi luoghi di installazione vedete che c'è una nota le luoghi di installazione sono definiti dalla norma quindi luoghi di installazione andiamo a scegliere nelle condizioni che sono prescritte dalla norma CEI 648 i luoghi marci nei luoghi marci di tipo B e C sono messe anche i cavi quindi non solo i CCA ma anche gli ECA alle condizioni indicate nell'articolo 751 0428A cioè posso anche installare i cavi purché siano opportunamente schermati contro il fuoco quindi vedete poi che nei luoghi marci anche di tipo A sono messi i cavi CCA e i cavi ECA per le condutture però che siano incassate in pareti non combustibili per esempio sotto traccia o installate in tubi protettivi o involucri quindi canali metallici però con grado di protezione almeno i P4X sostanzialmente al di là della siglatura non è cambiato nulla rispetto a come eravamo abituati a scegliere i cavi e siamo arrivati alla fine i quadri elettrici i quadri elettrici sono un capitolo direi ancora aperto ovviamente il CPR non se ne occupa dobbiamo capire che cos'è il quadro elettrico perché vi sono diverse interpretazioni dal mio punto di vista vi darò la mia ma dal mio punto di vista hanno tutti qualcosa di valido quindi cominciamo a porci la domanda ricordate l'inizio i cavi e CPR sono quei cavi installati permanentemente all'interno di opere di ingegneria civile ma il quadro elettrico a questo punto è una macchina elettrica o è un impianto elettrico dobbiamo porci questa domanda se è una macchina elettrica abbiamo fatto l'esempio del motore installato permanentemente all'interno di un edificio ma non è un'opera di ingegneria civile quindi la risposta è non deve seguire il CPR se è un impianto elettrico abbiamo appena parlato dei cavi che costituiscono gli impianti posati permanentemente all'interno di un edificio il quadro elettrico abbiamo detto essere permanentemente posato all'interno di un edificio quindi se è un impianto elettrico deve rispondere al CPR sono altri commenti che sono assolutamente condivisibili il quadro elettrico generalmente vede dei cavi che entrano si attestano generalmente alla protezione generale vengono ripartiti all'interno del quadro elettrico dalle protezioni e ripartono verso il campo quindi verso le utenze che dovranno alimentare ha senso dire che se il cavo entrante in un quadro è conforme al CPR è il quadro uscente conforme al CPR perché attraversa la parte di edificio ed è posato permanentemente in esso e così come le condutture che si dipartono dal quadro viaggiano in edificio vanno ad alimentare delle utenze quindi che senso ha che il cavo entrante sia CPR il cavo uscente sia CPR e in mezzo una struttura che ha comunque al suo interno dei cavi non sia CPR d'altro canto il CPR riguarda i cavi posati permanentemente quindi se pensiamo senza andare a pensare a una linea di media tensione che non riguarda il CPR al momento ma se andiamo a pensare a una linea di bassa tensione che arriva ad alimentare il mio quadro generale siccome arriva dall'esterno almeno fino al punto di attestazione al quadro generale può non essere CPR quindi il quadro si presta ad essere un ibrido ma a questo punto il dibattito è ancora aperto certo c'è un pronunciamento scusate un attimo al momento mi risulta che sul tema quadri elettrici si sia pronunciata l'ANIE quindi l'Associazione Nazionale Imprese Elettriche questo è un documento ufficiale di ANIE non riuscite a leggerlo però dall'interpretazione ho ingrandito la parte finale dove prende posizione e quindi tutto ciò premesso se ne deduce che il quadro elettrico non è soggetto al CPR in quanto non è un'opera di costruzione né una parte di essa fa riferimento appunto al regolamento CPR dove nelle aree di prodotto appunto bisogna dimostrare che è un materiale da costruzione ed è se un materiale da costruzione di un'opera di ingegneria civile è molto difficile considerarlo come un prodotto da costruzione secondo le definizioni di legge sopra richiamate quindi non è posato in questo caso permanentemente perché per quanto sappiamo che difficilmente i quadri vengono mossi all'interno di un edificio è lo stesso concetto del grande motore o della caldaia e quant'altro che viene posata permanentemente ma non è un'opera di ingegneria civile quindi mancano comunque nome armonizzate per la marcatura CE dei quadri elettrici ai fini del CPR esiste una normativa è la 6439 ma riguarda i quadri elettrici quindi la sicurezza del quadro va valutata unicamente con riferimento alla direttiva di bassa tensione e requisiti di sicurezza IVI previsti in tale contesto le norme armonizzate per la direttiva di bassa tensione la cui applicazione fa presumere rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva non prevede l'uso di cavi CPR nei quadri elettrici allora lascio ad ognuno la propria la propria interpretazione anche questa è un'interpretazione non abbiamo in questo momento un riferimento legislativo come dicevo che ci faccia propendere da una parte piuttosto che dall'altra sicuramente è facile anche dimostrare che l'abbiamo detto prima che i cavi rispondenti al CPR hanno subito delle prove perlomeno sono state ridefinite le prove hanno subito delle prove più severe quindi la siglatura di un cavo CPR ci consente di capirne meglio le prestazioni e di conseguenza potrebbe avere senso fare i quadri secondo i cavi CPR avremmo probabilmente un grado di sicurezza leggermente superiore del quadro elettrico rispetto a quanto facciamo oggi d'altro canto vi sono dei quadri elettrici che ben sappiamo che sono segregati costituiscono delle parti addirittura vi sono dei quadri che sono a tenuta d'arco per cui non capisco come possano propagare l'incendio al di fuori vengono costruiti per sopportare sforzi elettrodinamici elevatissime produzione di fiamme quindi non capisco perché dovrebbero contribuire all'incendio e quindi potrebbero essere cablati assolutamente con dei cavi non CPR d'altro canto dobbiamo anche pensare che ricordo che CPR riguarda i produttori di cavi che sono tenuti a produrre cavi CPR dal primo di luglio di quest'anno per cui è una situazione che a mio avviso tenderà a stabilizzarsi assolutamente nei prossimi mesi e di conseguenza troveremo sul mercato soltanto cavi CPR per cui anche in questo caso è un falso problema domandarsi come dovrà essere fatto il quadro attendere sarà sicuramente cablato con cavi di tipo CPR certo è che come sempre la problematica avviene nei momenti di transizione il parere dell'ANIE a mio avviso è un parere assolutamente autorevole ed è e secondo me non altera la sicurezza che fino ad oggi e che possiamo avere da un quadro elettrico cablato con cavi normali per cui ritengo anch'io personalmente che si possa continuare a cablarlo con cavi normali finché non avremo solo cavi CPR io ho concluso la presentazione vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento grazie a tutti buonasera grazie a tutti